Allegri ha definito straordinario l'eventuale raggiungimento del secondo posto e quasi a prendersi una ragione che vi chiedo se avesse dice attenzione perché la Champions, che è il nostro obiettivo ecco perché il secondo posto sarebbe straordinario dobbiamo stare attenti a quella che non è matematica Ma dunque è chiaro che ogni partita soprattutto nelle ultime quattro ha un insuccesso e ogni conferenza stampa è una frenata di Allegri sugli obiettivi che diventano minimi o forse ancora più minimi però secondo me c'è dietro anche un qualcosa per dire insomma da un lato siamo ancora nel target proposto e però Allegri parla come un allenatore di una squadra, di una piccola non parla con la visione di un allenatore che sta sulla panchina di un grosso club perché c'è anche quando dice e gli hanno chiesto perché non Milik con Blaubic cioè dà sempre l'idea di aver paura dice no perché ci scoprivamo troppo ma ragazzi ma alleni la Juve hai una rosa che se la paragoni a quella del Verona è imbarazzante cioè della Juve puoi dire tutto puoi dire che non ha la stessa rosa dell'Inter va bene ma è piena di nazionali cioè voglio dire cioè tu dici va bene con Milan, Inter, Juve, con l'Atalanta scusami con l'Atalanta con la Fiorentina ma no parità di rosa no solamente che il Milan e l'Atalanta giocano a calcio ognuna con caratteristiche diverse Allegri no se io fossi un dirigente della Juve può fare di più questa Juve secondo te sotto mani diverse sento queste conferenze stampa così minimal non ti piacerebbe io dico per me non è l'allenatore della ricostruzione semplicissimo caro Giacomo poi arrivo alla mia domanda non l'ho dimenticata vai Giacomino cosa pensi? beh chiaramente Allegri deve difendere il suo operato quello sicuro però io credo che lui ha detto che ha iniziato dopo l'Inter ma l'Empoli è stata la partita prima di Inter-Juventus perciò già con l'Empoli avevano fatto una partita non all'altezza la Juventus in questo momento e Allegri lo sa perfettamente non giocando sotto l'aspetto fisico parlo specialmente dei suoi tre o quattro interpreti che sono i interpreti principali allora Vlaovic anche qua ce l'ha e non ce l'ha Chiesa ce l'ha e non ce l'ha non è una scusante nel momento a me ha dato l'impressione che nel momento in cui la Juventus è calata nei singoli sotto l'aspetto fisico va in difficoltà oggi quando lui dice hai ragione a domanda perché non hai messo la seconda punta che è Milik lui dalla panchina ha capito che in quel momento lì anche se lui era la Juve però il Verona era superiore a lui sotto l'aspetto fisico ci può anche stare che magari in un momento dove la sua scala sta tirando il fiato perché comunque fino a poco tempo fa era lì a un punto in più un punto in meno dall'Inter e c'era quel più uno con asterisco perché era rientrato non a caso è rientrato il suo attaccante principale dove ha cominciato a fare gol segnava allora detto questo è chiaro che Allegri il suo obiettivo però devo dire è sempre stato entrare in Champions che secondo lui è chiaro che poi se arrivi secondo rispetto al quarto o forse il quinto è diverso però io credo che la Juventus è questa adesso ma non perché ha preso la battosta dall'Inter perché in questo momento non è in forma fisicamente chiarissimo chiarissimo e può essere una infatti mi piacciono queste due posizioni proprio perché sono curiosa di sapere Ugo Conti come si pone sei d'accordo con Bergigia sei più portato a pensare un inciso ma non è la Juve non è in buona condizione fisica ma questo è un demerito di chi l'allena però sì però che Vlauvi faccia una partita buona e 10 di oblio Chiesa non si capisce quanto sia immaginario cioè lì però la colpa di Allegri ragazzi è relativa io sai che sono sempre secondo me lui è consapevole di non avere una grande squadra è consapevole del fatto che ci sono giocatori che ci sono e non ci sono perché i due attaccanti Vlauvi e Chiesa non ci sono mai ha due centrocampisti che dovrebbero essere i pilastri quelli e i condottieri del centrocampo che non si sa che fine abbiano fatto sto parlando di Locatelli e Rabiot cosa c'entra a lui quindi tu dici cosa c'entra a Allegri scusate ma ha un ragazzo di 25 anni che deve maturare non gli insegni a giocare ma scusami e te lo può dire il maestro qua di fianco a me non gli insegni a giocare ma se stiamo parlando che per fortuna il calcio italiano ah no quindi De Zerbi non va bene perché insegna a giocare e lo mettiamo via De Zerbi Spalletti insegna a giocare e lo buttiamo via magari De Zerbi ha a disposizione dei giocatori meno talentuosi che però magari lo seguono di più bisogna sempre ma noi siamo convinti che Locatelli e Rabiot c'erano due talentuosi ma stai scherzando Rabiot mi fai finire Rabiot il titolare della nazionale su Locatelli qualche dubbio può esserci Locatelli è campione d'Europa ma sì ma va bene ma anche Balotelli è stato campione d'Europa non ha giocato mezza partita con l'Inter per una partita col Verona per una partita col Verona sono tutti che danno d'ossi ad Allegri ma i giocatori sono quelli chi va in campo è il giocatore ma quelli che c'erano in campo stasera se non lo capiamo che abbiamo 60 anni hai capito quelli che c'erano in campo stasera non bastavano per vincere o fare una partita migliore contro il Verona contro l'Udinese contro l'Empoli no è semplicemente no guarda guarda che Ferri è bene bene mi piace tra poco si aggiunge un posto parliamo di un altro sport che lui è consapevole di non avere Ferri poi mi collego guardate lui è semplicemente un allenatore superato ma perdonami sai qual è il problema è che se noi andiamo a vedere prima della partita la formazione della Juve o la rosa che c'era oggi compresa la panchina e quella del Verona non giocano neanche la partita esatto ma il problema è che tu le partite non le vinci sulla figurina è giusto in questo momento io perché ho ribadito il concetto mio io parlo del mio pensiero che sono esterno dico per quello che vedo la Juventus in questo periodo ma parlo già con l'Empoli certi interpreti che prima gli facevano la differenza perché comunque non è una squadra a livello secondo me sulla carta né dell'Inter né del Napoli né anche secondo me dell'Atalanta come singoli però ti dico in questo momento la Juventus sta pagando un calo fisico completo di una squadra che sta tirando il fiasco allora aspetta Paolo hai ragione anche quando stava bene dobbiamo solo metterci d'accordo se gli allenatori li ci contano nel calcio oppure no questo è un altro alloso problema velocemente ha ragione lui però insiste Paolo dice che non giocava bene e qua io gli do ragione ma il problema è che però faceva appunti Paolo era il puntatista allora in diretta da Torino il direttore del bianconero.com con grandissimo immenso sommo piacere presento abbraccio virtualmente Marcello Chirico ciao sei arrivato proprio nel momento clou della discusso è arrivato davvero no no ma sei arrivato nel momento clou un nuovo taglio di capelli di Giacomo sai che mancavi solo Teo anche tu sei geloso però posso dirti un po' geloso sei chiaramente sei un po' geloso Marcello dirgli di sì Marcello dirgli di sì ma tutto nasce dalla gelosia canaglia certo questo è sicuramente il fattore scatenante Marcello ma sei stato a Verona no 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 ma cosa ne pensi insomma questa Juve questo Allegri ha l'attenuante che insomma quando iniziavano a girare i suoi uomini chiave poi un certo faceva punti anche giocando come è però faceva punti però se non puoi contare su Chiesa su Vlauvi ma sì cioè la Juventus ha iper performato rendiamoci conto è andata oltre alle proprie stesse aspettative le stesse qualità che ha il reale livello della Juventus sta emergendo adesso ma non è possibile che in quattro partite di cui tre partite tra virgolette facili Empoli Udinese Verona tu fai la bellezza di due punti la bellezza la bruttezza di due punti con l'Inter di perdere ci sta tanto sappiamo che l'Inter è nettamente più forte basta ma con le altre tre tu una squadra comunque che era seconda in classifica ma lo sarà ancora per poco vedrete doveva queste tre partite vincerle queste tre partite con queste tre squadre che sono nella zona di retrocessione dove vince poi per carità uno mi viene a dire ma il calcio non è mai prevedibile sì però tu queste partite stasera stasera si è andato due volte sotto col Verona il Verona una squadra che a gennaio ha cambiato 11 giocatori che ha cambiato addirittura il tuo stesso modo di giocare e comunque è stata più aggressiva di te e si è meritato anche il pari se ne è strameritato il pari ha avuto tante occasioni ha fatto tanti tiri in porta e poi secondo me secondo me l'errore è stato anche quello di mettere tardi Federico Chiesa perché Federico Chiesa da solo quando entra in campo lui si crea due occasioni da solo Marcello da solo Marcello perdonami allora stai parlando di una Juventus che in queste quattro partite come parlavamo anche noi qua dallo studio la Juventus forse la prestazione tra virgolette un po' più aggressiva ma chiaramente contro una grande squadra che è stata l'Inter e sotto aspetto tattico e fisico forse io l'ho vista meglio rispetto alle altre tre allora noi stiamo dicendo credo un po' tutti che la rosa non è una rosa da poter competere con le altre due tre squadre giusto Marcello ma è possibile io ho detto che secondo me dall'Empoli in poi ho visto una Juventus in calo a prescindere allora se tu non hai una rosa adesso tu hai citato il Verona dicendo che è stato aggressivo determinato su ogni pallone allora io però dall'altra parte c'ho una Juventus che si sulla carta a giocatori più validi ma in questo momento non sono in forma però aspetto tattico però giocamo allora non c'è se io non sono in forma non c'è un responsabile non è colpa di nessuno no cioè noi diamo 7 milioni ad un allenatore no ma durante no ma non vuol dire vedi però Paolo perdonami no ma non è contro di te è una tesi ovviamente allora io credo che noi siamo qua che ognuno è giusto che dica la sua no no io ti dico però Paolo i 7 milioni hai ragione però i 7 milioni non ti fanno correre no però alla Roma hanno mandato via la disperazione Mourinho giocava in un modo inguardabile di De Rossi in un mese ma perché secondo te perché perché non era capace di farle giocare perché De Rossi due giorni li ha preparati fisicamente o perché c'era qualcosa tra gli allenatori e i giocatori però ha cambiato giocano a 4 palla a terra giro palla veloce tu hai mai visto Pellegrini giocare come gioca con De Rossi e ma Mourinho ma Mourinho lo umiliava non lo faceva giocare o lo faceva entrare capisci che ci sono allora detto questo ma gli allenatori contano Paolo sul discorso che stava facendo Marcello perché io sono intervenuto perché secondo me parlando sempre di Verona Juve la Juve in questo momento io credo che se tu puoi avere anche Rabiot io sono d'accordo con Paolo ma se non gira perché Rabiot secondo me è un buonissimo centrocampista ma se non è in forma però se non è in forma tu trovi dall'altra parte un centrocampista di Verona che può essere X ho capito Giacomo non te la fa mai prendere Paolo Giacomo un allenatore bravo cerca di far stare in forma i propri giocatori nell'arco di una stagione il maggior tempo possibile ha maggior ragione che non hai Champions se non hai Venduto Allegri mi pare di capire che c'è chi dice Allegri sì avrà le sue colpe scatenato stasera scatenato Marcello scatenato Chirico sembra quasi che abbia vinto visto che sei finito anche tu su Strascia voglio allinearvi ai tuoi capolavori i Gian Bruno capolavori no quanto un allenatore il Gian Bruno è unico in questo ah beh assolutamente Marcello Marcello ha sempre un posto nel mio cuore numero uno no no mi ricordo anche le battute in terra araba quando facevamo gli europei l'anno scorso ti ricordi lo speciale mondiale anche recente sì 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 è vero è vero ma io capisco io poi ti dico una cosa Margigia quando dice 7 milioni un allenatore e non mi dà nulla se quanti tifosi della Juve però scrivono eccetera non a me a me ma diciamo in generale Allegri Out che vogliono un allenatore se stufi di avere un gestore che vogliono uno poi cosa gestisci cioè parliamo del calcio per esempio che fa Tiago Motta abbiamo visto giocare il Verona stasera cioè perché difendere a prescindere Allegri quando nessuno gli toglie il bene che ha fatto in passato e quello che ha vinto però a un certo punto come nella vita nelle persone tutti noi cioè puoi essere superato o non esserti non è stato più così bravo ad adattarti ad un mondo che ti cambia intorno c'è anche Murigno però questo Paolo prima di giocare con l'Empoli cosa diceva di Allegri della Juve io personalmente dicevo che continuava a giocare male però Marcello aspetta Giacomo aspetta si diceva Paolo io mi ricordo cosa dicevi anche tu cosa dicevo anch'io a un certo punto abbiamo detto però è un po' migliore rispetto a prima mia poi che da Empoli è ritornato ma io mi ricordo Marcello io ti dico l'anno scorso noi ci dimentichiamo nel calcio finita la partita non ti ricordi più parli 5 minuti l'anno scorso io non voglio difendere Allegri che gioca bene non voglio dire questo però l'anno scorso il percorso di Allegri nella situazione in cui si è trovato che campionato ha fatto qualsiasi altro secondo me allenatore sarebbe andato nel panico non c'era contro il Pro non c'era contro il Pro io ti dico secondo me allora prima gli tira via i punti poi glieli danno poi questo squalificato l'altro squalificato alla fine comunque lui è arrivato ancora in tempio l'anno scorso allora ripeto non sto difendendo Allegri però ho aspetto del gioco perché trovi solo cose positive delle attenuanti non c'era una critica ma scusa come faccio a trovare cose negative che l'anno scorso ha fatto dei risultati ho capito ma l'anno scorso è passato però dobbiamo anche l'anno scorso è passato ma quest'anno aspetta aspetta una alla volta basta e basta cioè adesso ha ricominciato un'altra stagione ho capito ma dopo due partite è diventato da buttare nell'umido scusate ma no dopo due partite nel senso che quello è andato ormai gli abbiamo dato il discorso Giacomo il discorso è capire e lo dovrà capire anche Giuntoli o chi per lui se sarà il caso di tenerlo continuare certo di ripartire da lui ma perché ragazzi Giuntoli ha già capito ma giustamente però Paolo tu hai detto Giuntoli l'ha già capito se glielo chiedi tu che lo conosci te lo dice che l'ha già capito il problema è che lì deve capirlo un altro il problema però Marcello Marcello tu mandi via Allegri e chi porti? Motta? tu sei sicuro che Motta porta il gioco che ha Moria ma sicuro io non so sicuro non è nessuno sicuro scusa prima tu hai detto prima tu hai detto aspetta però la domanda era a chi ripeta aspetta calma facciamo rispondere un attimo ma allora cosa fai tieni Allegri fino a quando Allegri va in pensione non sei da Allegri ma tu devi fare la squadra la cosa principale della Juve ma il Bologna ha una squadra mica più forte della Juve gioca meglio oggi ha giocato Verona meglio della Juve anche Verona gioca meglio della Juve ecco è detto tutto però la Juve è seconda Chirico ho capito ma sono profili diversi ma voglio sentire Ugo Conti quanto costa la rosa della Juve con quella del Verona e del Bologna è seconda la Juve è la più cara capite allora è la più cara ma non è detto che sia quella più calibrata la Juve però Paolo diciamola anche tutta Allegri a tutte le sue grandi responsabilità secondo me ma anche la squadra è mediocre la vogliamo dire o no o soltanto ascoltami ascoltami c'è il Duc ha il 60 e la squadra è il 60 cioè fa tutto schifo la Juve in questo momento non possiamo dire che è soltanto uno non è solo uno Marcello la squadra ma dai ma come puoi valutare questa rosa della Juve non è mediocre allora allora scusami è mediocre è scadente ma anche Conti dice questo è scadente è mediocre perché gioca molto male ed è allenata male io vi dico una cosa vi passo questo concetto se esaminiamo il centrocampo della Juve rispetto ad altri reparti di squadre come a livello della Juve l'Inter il Milan ok ve la passo in difesa Bremer Danilo Scesni non sono scarsi non sono scarsi davanti infatti ti ho detto che ci sono 6-7 giocatori bravi infatti ti ho detto che 7-8 giocatori sono bravi eh per te però magari sono 20 bravi non lo so tu devi fare il conto dei giocatori bravi è utile che mi continui a dire Emma Bremer allora bastano solo tu devi nominarnevi devi nominarnevi quelli bravi ci sono quelli bravi i nazionali della Juve i nazionali della Juve te li nomino no lascia perdere la nazionale Cesni lascia perdere la nazionale Cesni i quelli bravi Cesni Scalzo quelli bravi Cesni Bremer Bremer Locatelli Danilo Rabiot oh mamma mia che miracolo di carne secchi mamma mia un miracolo clamoroso il Sassuolo è andato vicinissimo al gol del pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo una botta violentissima all'interno dell'aria piccola poi è stato molto bravo credo sull'oriente carne secchi un autentico miracolo il pallone poi è finito sulla traversa il Sassuolo ha avuto uno squillo al trentesimo minuto eravamo a quattro siamo a quattro siamo a quattro poi sento un poi Giacomo vai quattro Locatelli 5 Chiesa 6 Locatelli io non lo considero scarso no Locatelli no sta giocando male perché è allenato male ma da anni però sta giocando male è una promessa da quando è andato via da Milano non è una promessa è campione d'Europa e gioca in nazionale il problema ragazzi ho capito ma scusami ma il Milan il Milan gioca bene a calcio si o no? e beh siamo fermi a 6 beh il Diz lo mettiamo cambiaso cambiaso l'Ildiz se parliamo di nazionali scusa se parliamo di nazionali tutte le squadre oggi il Verona che ha giocato con la Juve ne ha 8 ma non la nazionale del Congo no aspetta aspetta la Francia aspetta fammi fare questa domanda voi state parlando dei nazionali della Juve ma no io ti ho fatto 6 giocatori di livello si scusami ma nel Milan nel Milan gioca a Calabria ho capito il Milan Gabbia Giro che ha 90 anni ascolta un attimo ascolta un attimo no ascolta un attimo il Milan si sta riprendendo adesso che rientra gli infortunati ferma la Juventus la Juventus la Juventus ha giocato quasi per un anno e anche adesso non è al 100% né uno né l'altro senza Chiesa senza Blauvi e senza Chiesa tu trova che questa è la dimostrazione che il Milan senza Tomori Love to Cheek e via dicendo quante partite ha perso allora Conti sentiamo Ugo aspetta aspetta Paolo fammi sentire Ugo senza Chiesa non è poco gli togli tanto gli togli il 50% aspetta poco io non ho più niente da dire no ma tu devi anzi anzi questa è la trasmissione dove viene fuori tutto quando tu parli della Rosa del Milan e fai capire che nel Milan gioca Calabria Chiaer adesso eh Chiaer adesso Florenzi sono nazionali quelli là sono nazionali ma anche quelli della Juve su dai anche quelli della Juve ma per dirti visto che per te sono nazionali ma non c'è una differenza di Rosa tale come paragonale la Juve di nomi me ne infatti sei di nomi della Juve ce ne sono 25 in Roma ce ne sono 25 in Rosa me ne infatti sei me ne infatti sei ma anche nel Milan non ci sono 11 fenomeni no 11 fenomeni c'è gli Al City però ci sono sui giocatori forti la differenza è negli allenatori è nelle idee di gioco allora Ugo Conti tu però vai sei ora solo contro l'Allegri ti sto dicendo che hai ragione su Allegri ma devi anche guardare la Rosa allora Chirico fa il doppio ragionamento fa il doppio ragionamento la Rosa Allegri conti conti non hai capito niente se ci dice tenetevi Allegri non hai capito niente tanto la Juve non può più se tu dici a me se tu dici a me tenetevi Allegri di quello che ho detto non hai capito una cippa lippa no perché bisogna essere chiari non hai capito una cippa lippa bisogna essere chiari io sono il primo che non voglio più Allegri io sono il primo che non voglio più Allegri faccio un esempio ricordare che ci sono grandi allenatori che hanno vinto Scudetti e Coppe dei Campioni dando spettacolo cambiando squadra l'anno dopo arrivare decimi in classifica ti faccio l'ultimo esempio è quello del Napoli l'anno prima dello Scudetto il Napoli ha dato via cinque gioventori tra più importanti più forti della squadra hanno preso sei sconosciuti Spalletti gli ha messi in campo e secondo te Spalletti ha lavorato giorni e notti per fargli giocare a pallone erano diversi giocatori e allora cosa stiamo dicendo sono i giocatori che fanno le squadre sono i giocatori che fanno le squadre dovete fare questo lavoro però ancora in teoria non avete capito che questo è il fatto ma non scherziamo Ugo posso dirti prima si stava io sono d'accordo su quello che dice Ugo cioè quindi che Spalletti non ha contato niente no niente 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 perché se tu vuoi dire se ti mettevi sulla squadra di Salsa non hai insegnato a giocare a cancio a paraschia e loro vincevano lo stesso Paolo io ti dico tu continui a dire a paraschia a giocare a cancio però io volevo rialacciarmi il discorso che faceva prima Marcello con Paolo allora sul discorso di giocare bene e giocare male gli interpreti ecco perché dico che Ugo non ha tutti i torti gli interpreti poi sono i giocatori perché tu puoi essere il migliore allenatore che vuoi ma se non hai qualità tu non fai niente allora tornando al discorso di prima perché ho fatto il paragone con Milan Juve-Milan sul discorso delle prestazioni la Juventus e qua Marcello non so se si ricorda ma si ricorda sicuro nel momento in cui gli viene a mancare due giocatori fondamentali io io ho sempre ma non solo io lo dicono tutti che Chiesa e Vlaovic se stanno bene ti possono fare la differenza poi possono giocare anche male ma lì davanti se ci sono fa la differenza Tu Filippo allora sul discorso Conte in Italia Conte alla Juve Conte all'estero sono d'accordo su questo che ha detto Paolo sono assolutamente d'accordo alla fine lui andrà in una squadra estera anche perché sta cercando un club che possa competere in Champions League in Italia al di là dell'Inter non ne vedo tanti altri comunque lui in quell'intervista lì dice io l'ho letta anche in un'altra maniera perché quando tu mi chiedi la Juve la Juve non ha più speranze lui l'ha capito che non ha più speranze perché alla Juve se devono cambiare Allegri prendono Tiago Motta io non do il 75% da Allegri io in questo momento da Allegri gli do un 55% per essere abbondante perché secondo me lui ha la forza della proprietà dietro però ci stanno pensando seriamente a Tiago Motta lì in quell'intervista lui avendo capito che alla Juve non lo vogliono più utilizza il Tottenham per mandare un messaggio alla Continassa cioè quando lui dice ma io non capisco come si faccia gioire per i quarti posti per i posti certi sono abituato a vincere infatti io quando siamo arrivati noi del Tottenham al quarto posto tutti gioivano io dicevo state calmi non abbiamo fatto niente ma quello è un messaggio che lui manda alla Continassa sì volete Tiago Motta e non volete me però ricordate che adesso avete in casa uno che si accontenta del quarto posto che gioisce per il quarto posto io l'ho letta così anch'io essere solo una squadra divertente non basta e qui un po' la frecciata chi legge il gioco buono il bel gioco il bel gioco lo so anche allenato e poi dice quello che dici tu per me festeggiare il quarto posto un posto in Champions è davvero strano amo il mio passato ma allo stesso tempo l'aspettativa che porti è sempre alta e se non vince hai fallito quindi lui dice caro Allegri mi viene fuori onda diciamo di questo virgolettato io non sono abituato come te che il mio obiettivo è la Champions e quindi ci vedo la frecciata a una Juve che lo ha tu sei una diminuzio tu sei una diminuzio miracolo perché prese il Tottenham al decimo posto e lo portano qua in Champions League lì fece un miracolo però lui disse sì vabbè ma non sono quelle che a me piacciono mentre invece vedi ad Allegri a voi dalla continanza vi accontentate di questa cosa qui è vero è vero anch'io c'ho detto Giacomo e ha ragione è ha ragione perché quando ieri in conferenza stampa dicono ad Allegri oh ma non vinci da tre anni e vabbè c'è gente che non vinceva da dieci ma cosa vuol dire ma tu sei la Juventus football c'è gente che non vince tutta la vita così lui ha detto io ho portato sempre il lavoro in centro certo per carità ma la Juve al Milan al Inter giochi per vincere giochi per arrivare secondo ed era Conte uno travestito era Conte travestito da un giornalista quando mi ha fatto la domanda ieri la continazza vai Giacomo sei d'accordo con la frecciata di Conte che giocare per il quarto posto non è da vincenti e ha tirato la frecciata anche secondo te alla Juve che vuole Allegri ma io non so a chi l'ha tirata la frecciata io ti dico solo che se Antonio Antonio va in qualche squadra italiana va solo alla Juve questo è il mio pensiero alla Juventus ma perché lui o perché la Juve è l'unica di può lo voglio lo voglio è tutto da vedere che non lo voglio è tutto da vedere Marcello perché tu sai che nel calcio dalla mattina alla sera cambia tutto chiaramente non lo so io se Allegri andrà via o meno io sto dicendo che se Antonio Conte dovesse andare in una squadra di calcio in Italia va alla Juve altre non ce ne sono lui voleva andare questo è il mio pensiero come dicevamo prima su Tiago Motta dicevamo ma bisogna convincere quello là la stessa cosa è per Conte cioè su Conte quello là dice l'abbiamo già avuto in casa ha già fatto casini non voglio rimettermi in casa uno che mi fa casini anche se è vincente non lo voglio capisci ecco perché lui trova ostacoli ad Juve ma io personalmente lo riprenderei domani mattina però io posso dirti una cosa essendo nel calcio da 50 anni che ormai sono vecchissimo ne ho visto in tutti i colori sentite chiaramente è un discorso che il tuo fila liscio io adesso non so se quello là che dici te gli piace non gli piace lo vuole non lo vuole perché non gli piace non lo so io in base alla domanda di Giovanna ma questo è un mio pensiero che avevo anche prima se tu mi avessi chiesto una settimana fa dieci giorni fa io ti dicevo la stessa cosa secondo me in Italia va solo allo Juventus Antonio all'estero è tutto da vedere è tutto da vedere Giacomo però è una cosa empirica perché se la Roma dovesse cambiare proprietà entra un fondo arabo e gli fanno la squadra secondo la filosofia di Conte visto che come diceva Giovanna umanamente può stare in Italia può stare in Italia non è un dogma questo qua però Paolo può succedere a tutte le squadre se al Milan cambia la società no ma al Milan non cambia la società no arriva qualcuno alla Roma c'è quel rischio arriva un magnate che ti porta dei soldi e dice quelli che sono proprietari no nel calcio nel Milan non è nelle cose no ma nel calcio nella Roma ci sono stessi nel calcio può succedere di tutto può succedere quello che hai detto te se alla Roma dovesse succedere che arriva uno che dice io voglio investire tot e voglio Antonio Conte posso accontentarlo su tutto quello io sto dicendo Gio in base alla tua domanda io sto dicendo quello che c'è adesso certo Ugo io rettificherei quello che hai detto all'inizio che è un allenatore importante il 30% in una squadra con Conte aumenterei almeno al 40% allora quelli bravi contano di più esatto perché è uno che riesce a far rendere il giocatore a mille per mille è uno di quelli che ti ammazza è un martello è uno di quelli che se non ti alleni come se allena lui però c'è anche un fatto che vuole i giocatori che vuole lui quello è un problema molto importante e che poi li spreme anche se lui lo metti su una panchina con 10 sconosciuti e voglio vederlo hai capito? dipende Ugo dell'obiettivo della società scusa Ugo dipende secondo me tutto dell'obiettivo che ha la società dimenticate una cosa in questa forma di idolatrizzazione di Antonio Conte cioè che godi di buonissima stampa che ha grandissimi meriti che è un lavoratore pazzesco ma che in Europa non ci ha mai capito nulla non ha mai vinto praticamente nulla e se per te Ugo Conte vale il 40 e fai un'eccezione sugli altri allenatori cosa valgono? Klopp Guardiola Ancelotti e beh guarda la rosa che hanno a disposizione no no non guardo no guardala prestagli i giornali e lasciate da guardare scusami Ugo ma Conte fai bravo fai bravo Paolo Conte all'Inter era uscito due volte nei gironi guarda che Simone Inzaghi che ha una bella rosa ma magari non è la rosa paragone Conte c'aveva Lukaku eccetera eccetera cioè Inzaghi ha fatto una finale di Champions capito? ma scusa c'era Lukaku anche con Inzaghi sì no ma infatti non era più quel Lukaku devastante di tre anni prima è cambiato l'eneratore è cambiato però vedi Paolo perdonami Conte sia la Madonna peregrina quello che dice Ugo comunque io non voglio andare sulle percentuali però alla fine parlavamo adesso con la Giovanna se tu non hai protagonisti di un certo livello ti può arrivare anche no queste competizioni che non sono partita secca allora se tu fai una partita secca è un discorso ma nel campionato della Champions League deve avere fortuna a 360 gradi e la squadra è l'obiettivo primario però c'è da fare però stiamo dicendo che Conte ha tutti i meriti che volete però attenzione perché secondo me non è un allenatore completo perché un certo tipo di calcio che lui ha sviluppato in Europa l'ha trovato impreparato un po' arretrato capito? in Europa che senso? con le squadre italiane in Europa in generale nelle coppe con Potena ma anche sembrava dovesse asfaltare il Milan io ricordo l'anno scorso no? infatti lui lo dice nell'intervista Giovanna dice anche che lui vorrebbe vincere una Champions che il padre sogna dice mio padre così perché evidentemente sa che anche lui in quella cosa è stato lacunoso fin qui ah sì ci sta questo non toglie alla sua bravura è sicuramente un percorso che gli manca con l'inter anche andò fuori ai gironi fece l'Europa League e persa la finale dipende la società cosa gli chiede no dipende la società che obiettivo ha se la società ha l'obiettivo di un profilo come Antonio Conte e ha le possibilità economiche e allora possono andare su di lui certo non è che vanno su Conte e poi non fanno mercato non gli prendono il giocatore che vuole lui ah no se vai su Conte devi dargli in mano la macchina che ti chiede come fece l'Inter di Zanghe Marotta ma non è una critica solamente ha cambiato un po' il mondo perché l'Inter ha appesantito è andato in Settemina Grimit ha appesantito i conti e la Roma anche la Juve anche c'è un po' cambiato il mondo in Italia intorno a Conte non puoi più in Italia rischi veramente di avere le porte chiuse anche se da un punto di vista giornalistico io spererei ovviamente di vedere un Conte ritornare in Italia mediaticamente Giovanna l'Italia che ha salutato Mourinho dovesse riabbracciare Conte sarebbe una grandissima notizia i congru se invece rimaniamo orfani di queste grandi personalità è un po' un peccato Chirico cambiamo argomento e ti faccio proprio introdurre per una forma di sadismo così che questa sera voglio applicare l'argomento Inter allora in Zaghi ecco la verità sulla formazione contro la Salernitana tra poco ce lo spiegherà Simone in Zaghi in persona ma tu come hai come hai affrontato la notizia di un Inter che doveva essere no aspetta scusa Giovanna cosa è successo? Scamacca che ha fatto tutto benissimo poteva anche calciare prima Atalanta vicina al 4 a 0 lascio vedere a voi e parlare voi se questo è un miracolo di consigli o un gol fallito da Scamacca è un gol fallito fallito l'hai detto a te Alberto mamma mia cioè c'è tutta la porta li ha tirato proprio dal suo consiglio si vede che è un ex Sassuolo non ha voluto infierire no scherziamo che poi dicono la Gian Bruno spiegazione il gol si è abbastanza fallito ecco Chirico si pensava a un turnover massiccio in vista della gara di Champions contro l'Atletico Madrid e invece invece di fatto insomma a parte qualche pedina si è riposato di Marco c'era a Cerbi che non stava ancora bene Darmiar esatto Darmiar ma poi insomma l'ossatura i Cialanoglu i Mkhitaryan i Turam i Lautaro c'erano perché? ha fatto bene? sì alla luce ha vinto ma avrebbe vinto anche senza facendo riposare? sì poi però li ha fatti uscire ha cambiato dopo ieri l'Inter avrebbe potuto fare dieci gol in un quarto d'ora l'Inter per come l'ho vista io ne ha fatti soltanto due in un quarto i primi 18 minuti poteva farne dieci quindi loro si sono messi al sicuro il risultato ma no non ho niente non ho da criticare in questo momento Simone Inzaghi perché Simone Inzaghi secondo me in questo momento le sta azzeccando tutte poi ti dico questo in campionato ormai sta asfaltando tutti e stravincerà questo campionato perché è nettamente più forte rispetto alle altre in Champions League vediamo in Champions League vediamo perché ad esempio già in Champions League tu vai a incontrare una prima del girone tu che non avevi il girone impossibile con il Real Sociedad lo Strasburgo e il Benfica non avevi un grande girone però sei arrivato secondo e in Champions League certe partite non è che l'hai vinte molto facilmente come vinci hai vinto facilmente col Benfica ma non l'hai vinte così come fai in Italia quindi adesso vediamo con la Telecom Madrid che la Telecom Madrid è squadra poi è la fortuna che la Telecom Madrid non gioca a Morata ed è già una bella fortuna però tutti gli altri sono forti per ieri l'Inter ha vinto 4 a 0 oggi la Telecom Madrid ha risposto 4 a 0 con la Spalmas che è ottavo in campionato e non è ultimo un giorno in più per riposarsi l'Inter si è lamentato per riposare che lì non è concepibile la cosa del genere quindi cavalchi la polemica di Simeone ragione Simeone ma perché scusa perché loro devono giocare il venerdì e la Telecom Madrid no perché spiegatemelo perché probabilmente Ceffering va così e non va bene sta così chi è che l'ha deciso la UEFA è la UEFA sono decisioni che Simeone si deve arrabbiare con la UEFA e infatti si è arrabbiato con la UEFA sì non è giusto nel senso che dammi la stessa no qui ha sbagliato la Liga però non la UEFA più la Liga che forse tu dici che non ha preservato la squadra spagnola tu devi permettere tu devi intervenire come UEFA e dire no devi permettere una squadra che partecipa al mio torneo se ti chiede l'anticipo di anticipare ha ragione Alberto ha sbagliato la Liga che ha messo la partita il sabato e non il venerdì comunque qualcuno ha sbagliato o la Serie A che ha fatto giocare incomprensibili il venerdì e la Simeone si è arrabbiato molto si è arrabbiato moltissimo vabbè sai Giovanna la Serie A sta spingendo anche la nostra Lega perché fa giocare l'Inter il venerdì e non il sabato no vabbè su quello anzi meglio cioè nel senso ogni Lega guarda proprio l'anticipo stanno forzando loro sul quinto posto perché alla Liga non glielo danno l'anticipo all'Atletico Madrid perché chiaramente allora lui dice UEFA tu dovevi anche intervenire perché caspita non è possibile ma l'anticipo è già il sabato quello dovuto è il sabato quello non dovuto è un optional cioè puoi ottenere però lì è la Liga che deve intervenire la Liga se tu fai la richiesta no ragazzi il motivo no hai ragione tu però io voglio andare oltre io penso che siccome da campionato a campionato cambiano anche i provider televisivi e sappiamo purtroppo per fortuna visto che ci lavoriamo anche che sono ormai le televisioni a scegliere i slot delle partite in Spagna funziona anche in maniera un po' diversa ovvero quando tu chiedi un anticipo al venerdì cambia il provider che ti manda in onda la partita lì addirittura credo che siano tre le televisioni che mandano in onda la partita a volte ci sono delle critiche in Italia per un big match giocato il sabato alle 18 ma perché la tv che lo sceglie perché il sabato alle 20 e 45 viene mandato anche da un altro emittente quindi oramai credo che incida tanto anche il discorso delle emittenti che scelgono quando evidentemente la UEFA non ha vigilato hai penalizzato la tua squadra giustamente quello si è andato a Madrid ben ritrovati vado corro ad Alberto Giambruno per il tabellino di questa partita che ha visto dominante l'Atalanta di Gasperi sì 3 a 0 affirma Pasalic Copminers e udite udite Michel Bakker che trova il gol il primo in Serie A vado a memoria credo siano 19 addirittura marcatori diversi quest'anno nell'Atalanta qualcosa una vera e propria cooperativa del gol questa è la classifica Atalanta momentaneamente a meno 7 dal Milan e forse è il caso di cominciare a vedere un po' più in là perché comunque l'Atalanta nelle ultime quattro partite ha rosicchiato 10 punti alla Juventus volente o nolente sono comunque dati da tenere in considerazione ha fatto 2 punti 4 partite la Juve ah beh sì la Juve ci ha prestato ovviamente perché poi i punti li rosichi se tu mantieni così viene risucchiato anche dal Torino però posso chiedervi visto che magari Giovanna dedichiamo giusto un minuto la Corsa Europa se sei d'accordo rimandando la classifica in onda quante squadre sono in lotta secondo voi per il quarto barra speriamo quinto posto perché tutti dicono il Napoli il Napoli ma a questo punto ci dobbiamo mettere anche il Torino per me Atalanta Roma e Bologna per me Napoli è fuori per me Napoli è fuori Atalanta Roma e Bologna guarda realisticamente Bologna vabbè Bologna Roma e Lazio cioè attenzione uno può dire allora la Fiorentina ha gli stessi punti ma per quello che stanno esprimendo adesso la Fiorentina sta esprimendo poco la Roma la scuriamo io dico ho detto Bologna Roma e Lazio ho detto domani c'è Atalanta Roma e Bologna domani l'Atalanta è ovvio domani c'è Lazio-Bologna lui diceva quarto-quinto ma la lotta non è ancora finita ma non mi puoi leggerne il pensiero io davo per scontato l'Atalanta e dicevo le altre Bologna Roma e Lazio Bologna secondo voi va secondo me va devo essere molto sincero devo essere molto sincero io avevo dato come finito il momento l'exploit del Bologna e sono stato clamorosamente smentito e sono contento si è ripreso alla grande tre vittorie di fila domani ha un esame di maturità perché vai all'Olimpico contro la Lazio e se passi anche quello poi il 3 di marzo c'è l'Atalanta Bologna quindi l'Atalanta avrà tra l'altro Gasperini si è lamentato del calendario poi magari Giovanna se vuoi credo che l'avremo Gasperini in diretta si si è un altro che si lamenta spesso è ovvio che uno accredita l'Atalanta basta vedere viaggia come un treno Ugo le tue 4-5 final 5 come si dice le prime 5 dai secondo te mettiamo che siamo come dovrebbe essere la nazione a portarne 5 ma secondo me le prime le prime 4 più una squadra di Roma Roma o Lazio ah quindi togli il Bologna escludi il Napoli o Roma o Lazio tu Giacomo? uguale penso come Conte di che non puoi pensare in un altro modo no io penso come Conte non Conti come Conte tu Chirico la tua classifica facciamola arrivare al quinto posto siamo ottimisti Roma e Bologna Roma no non ho capito Roma e Bologna ma no quarta chi? Bologna il Bologna il quarta Atalanta e la quinta Roma o Bologna anche se però anche se però l'Atalanta sicur sì l'Atalanta l'avevo già detto prima ok il quinto se lo gioca Roma e Bologna io ti dico non è ancora finito nulla perché come lì la Juventus era al secondo e potrebbe precipitare al quarto cioè così l'Atalanta io non è che so adesso da qui a maggio beh ma è un parere che si dà adesso scusa ma nessuno però dovendo fare la trasmissione qualcosa bisogna dire ma devi sempre fare ma no però ha ragione ha ragione ma scusami ha ragione ma scusami ha ragione e no perché dice dice e lo sappiamo ma perché tu sai che il Bologna è la roda però non puoi sempre attaccare così stavolta ha ragione ho ragione o no hai ragione la Lazio vanno al 56 posto tu lo sai tu lo sai ma se mi fanno una domanda adesso do una previsione in base a come stanno a come giocano a quello che vedo e perché se no cosa le dico non ti posso rispondere fammela l'ultima giornata ci vediamo a maggio ci vediamo a maggio Giovanna ci vediamo a fine maggio mandiamo la pubblicità niente certo va bene facciamo condurre anche te no 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 Giovanna è bravissima ha fatto una domanda a Gian Bruno tra l'altro tutto sto carico si dettelo a Bargigia che così me le risponde dove fatti a fare i tuoi devo farmi i fatti miei no no ma Marcello guarda che lui ha risposto a tutto questo polverone questa volta io mi dissocio da questa domanda che è fatta a febbraio è pretestuosa è speciosa guarda come te la chiudo guarda come te la chiudo guarda come te la chiudo in prospettiva io dico che secondo me è un giochino Bologna e Roma possono arrambire cioè secondo me la Roma ha fatto dei progressi ho visto una grande differenza rispetto alla Roma di Murigno con la Roma di Murigno non penso che sarebbe entrata a far parte forse non sarebbe nemmeno entrata in conference per come andava ma adesso con la Roma di De Rossi vedo una Roma diversa te la giochi togli la l'acenna e Tiago Motta e Tiago Motta che stiamo tutti qua celebrando e che probabilmente potrebbe andare alla Juventus secondo me si consacrerà quest'anno con l'Europa League di Bologna Giovanna guarda come te la chiudo poi parliamo di Italia poi siccome non so siccome non so da qui al 31 maggio cos'è ma dobbiamo parlare al quante ne andiamo al 17 presto al 17 al 17 Bologna non entra in Champions League al 31 maggio riparleremo magari in Bologna potrebbe essere anche dentro al Champions League il calderone il calderone l'ho tirato fuori io è tutta colpa tua non è colpa mia è colpa tua parlavamo di Europa quindi è coppa mia dai diamo entrare come quinta perché gioca a calcio ma io ho una deformazione c'è le squadre che giocano bene a calcio e che sono lì ovviamente cioè anche voglio dire anche il Verona gioca bene però non ti dico che entra nelle cinque ma fra quelle lì in questo momento tra le squadre belle da vedere in salute ci metto sicuramente il Bologna guarda la Juve ha così margine che entra in Champions League oggi siamo al 17 il Bologna è dietro l'Atalanta te lo dico no ma io dico come quinta come quinta no ma io dico come quinta eventuale che se non ci fosse la quinta comunque Paolo in questo momento tu parli sempre del gioco però scusami in questo momento parlando seriamente c'è l'Inter no parlo del gioco l'Inter no no sto parlando del bel gioco facciamo un gioco le squadre belle che giocano bene aspetta dato che tu parli del bel gioco del Bologna sto dicendo che in questo momento se andiamo alla ricerca di chi di chi gioca bene il bel gioco nel campionato italiano è l'Inter l'Atalanta e Bologna no ti aggiungo il Milan mi piace come gioca è l'ultima partita no in generale anche quando andava male quando non c'era l'off 2c che aveva problemi di pubagia no ti spiego ti spiego imbarca tanti gol perché è una squadra molto sbilanciata Paolo perdonami non voglio te roppere però io quando vedo giocare il Milan il Milan da adesso vedo una squadra che attacca ma ho capito ma tu hai in testa adesso il Milan nelle ultime due partite prima che rientrassero dei giocatori importanti uno su tutti l'off 2c che oltretutto sta facendo gol però il Milan non giocava così ragazzi c'era Pioni che lo voleva mandare via due domeniche a fare ma giocava sempre per attaccare io mi ricordo Paolo la partita prima del Napoli eravamo qua poi ha giocato con Napoli in casa ha vinto ha giocato in Cine Coppa ha vinto e allora era per il discorso no ma quello è ovvio però lì gli imputavano il discorso degli infortuni volevano fargli cambiare il preparatore che lui ha difeso però il Milan non ha mai fatto passi indietro nei risultati sì ma nella qualità no no nel gioco Paolo perdonami dai nel gioco sono d'accordo con lui io l'ho visto l'ho visto proprio guarda bene l'ultima partita è veramente chi ha la palla tra i piedi ha il compagno più vicino a 30 metri non gioca più bene come giocato prima assolutamente quando entra Benassert è l'unico che si vede che ha un po' di sale in zucca ma il resto è una squadra normalissima poi se l'allenatore si inventa anche di togliere Teo Hernandez dalla fascia è un pazzo ultimamente però c'è l'off2c che comunque con Benassert in mezzo al campo fanno tanta roba mi fa capire che Benassert l'altra sera è entrato d'oltre che non è contento Conti tra poco ne parliamo comunque scusate un attimo dimmi però scusa non giusto per dire oggi è il 17 di febbraio domani 18 domani 18 febbraio si gioca domani 18 febbraio si gioca alle ore 12.30 Lazio-Bologna se il Bologna dovesse fare il colpaccio a Roma lo fa scommetto va a 45 punti ma io a Marcello vieni via 45 punti ma io credo tanto nel Bologna io credo tanto ma va a 45 punti e se invece becca domani e se becca alle 12.30 rimane a 42 no ma non tanto per il Bologna la Lazio dove va? che la Lazio non l'avete qualcuno di voi no noi noi due io mi ricollego un attimo Giovanna se posso non so quanto tempo abbiamo finito un po' un po' vi racconto vi racconto le origini della mia vita no mi ricordo quello no dopo lo sentiremo dopo dopo da noi diceva prima Marcello sull'Atalanta eccetera mi ricollego a quanto diceva lui perché l'Atalanta è un filotto di sei partite tra Europa scontri diretti con le milanesi Bologna Fiorentina in trasferta Coppa Italia Juventus e Fiorentina in Coppa Italia quindi ha quelle sei sette partite che o ti buttano giù o ti tirano su o forse puoi andare a prendere anche il terzo posto ma tu l'hai fatta la tua classifica alla fine l'hai fatta chiudendo Gianbruno esponiti secondo te perché a me piace parlare un po' prima perché se tutti parlassimo dopo è prudente ci sono queste 8 partite che possono decidere però c'è anche la sensazione c'è anche un fattore di pace ti dico una cosa ti dico sensazione ti dico sensazione che l'Atalanta che ho visto a San Siro in Coppa Italia contro il Milan è una squadra addirittura in grado di poter arrivare anche terza allora l'Atalanta ce la metti quella squadra sì Roma no io Lazio io ho una delle due romane come ha detto o Roma o Lazio io Lazio sulla Lazio può incidere non essendo lunghissima di rosa essendo detto che se arriva in Bologna sono contento essendo Saru un po' allergico agli impegni le cose i calendari se la Lazio dovesse passare il turno in Champions con l'Ottario e sai se lo passa secondo me poi sono discorsi di adesso lo passa? lo passa? secondo me le mie percentuali sono se passa tu cosa succede? che secondo me non tiene botta anche in campionato che non tiene botta anche in campionato io invece aggiungo una cosa la Lazio in queste ultime io più del Bayer più del Bayer ha ritrovato un giocatore che lei non aveva questa è la Lazio che è immobile perché è immobile nelle ultime due o tre partite gli ha risolto la situazione che è l'unico attaccante che ha la Lazio che può risolvergli le situazioni cosa che quando non l'ha avuto ha avuto delle difficoltà più del Bayer quindi per te anche la qualificazione è alla portata no la qualificazione ci può dipende da Bayer a Monaco di Baviera vogliono la testa di Tuchel cioè il Bayer Monaco sta facendo malissimo c'è un casino Bayer Leverkusen sta vincendo la Bundesliga o andare avanti per me la Lazio è favorita sono d'accordo con Gio per me ovviamente sulla qualificazione dico 60 Bayern 40 Lazio 65-35 però Paolo stavamo parlando del discorso del quinto posto sì sì ma l'ho messo anch'io insieme alla Roma e il Bologna per il quinto quando ho detto che è fondamentale ritrovare un giocatore che la Lazio non aveva un bomber cioè ha trovato immobile che per fortuna della Lazio e di Ciro immobile per me se la può giocare ad Arnipar devo mandare Inzaghi perché ha risposto proprio in un bellissimo posto perché in questo momento sta mettendo in campo spettacolo una squadra che gioca a memoria ha detto non ci rilassiamo non ci rilassiamo neanche quando dormiamo si vede che hanno davvero l'occhio della Tigre ce l'hanno tutti questa grinta questa sensazione veramente di essere squadra e di giocare per qualcosa di grande e di comune Inzaghi su poco turn over perché gliel'hanno chiesto ma come ne dovevi cambiare otto alla fine erano tutti in campo perché Inzaghi è risposto così Ho ragionato insomma insieme insieme al mio staff avevamo recuperato bene dalla partita di Roma avevamo avuto sei giorni i ragazzi hanno lavorato molto bene gli ultimi tre giorni sul campo non ho cambiato i tre ma avrei potuto cambiarne molti di più poi chiaramente a volte se ne cambiano tre a volte se ne cambia uno a volte sei dipende dalle dalle partite dalle valutazioni però ero tranquillo per come aveva lavorato la squadra negli ultimi giorni Ben ritrovati beh insomma ovviamente la risposta non poteva che essere quella di Simone Inzaghi che assolutamente l'esonero del fratello non ha inciso sulle sue scelte tecniche quindi non ve la faccio neanche ascoltare vi faccio io una domanda che è poi quello di cui parlavamo in pubblicità poi apriamo il capitolo Milan quanto incide così Chirico veramente dirai vabbè si decide tutto il 17 febbraio quanto secondo te può incidere un'eventuale uscita dalla Champions prematura da parte dell'Inter il prematuro sarebbe agli ottavi di finale nel giudizio finale della stagione di Simone Inzaghi andiamogli a appiccicare a dare già ragioniamo un po' in là veramente lo scudetto quindi vince lo scudetto esce agli ottavi di finale il giudizio su Simone Inzaghi è positivo positivo si sicuramente se vince lo scudetto lui salva la stagione ha vinto la supercoppa perché lo scudetto è troppo importante specialmente ovviamente qua in Italia è ovvio se poi vince lo scudetto vince la Champions è altrettanto importante Marcello poi vengo da Paolo Giacomo questo scudetto qui ha un'importanza particolare per l'Inter perché è lo scudetto della seconda stella ci hanno messo quasi 50 anni di riuscire a prendere questa seconda stella quindi insomma non esca il figlio la Juve la seconda stella la seconda stella ce ne mise circa una ventina loro ce ne avevano messi 50 comunque nonostante questo io petto però io dico un conto è uscire in Champions League perdere una finale uscire a una semifinale se vieni esci all'ottavo di finale c'è una macchia ma macchierebbe un po' il percorso di Simone Zagli beh io penso che la delusione sarebbe tanta nei giocatori nei giocatori ma anche tra i dirigenti questo non peserà perché se li vince lo scudetto della seconda stella sicuramente non è che lo esonerano perché non lo esonerano mi sicuro rimane sempre un vincente però 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 ci sarebbe un però che non c'è stato però ragazzi non c'è stato con Conte perché Conte ha vinto lo scudetto ha riportato lo scudetto dopo Mourinho all'Inter è un grande indimenticabile non c'è stato in Champions è uscito agli ottavi cioè è stato poco calcato quel è uscito agli ottavi Paolo almeno da ricordi scusami scusa al girone perdono al girone è stato molto coperto lo scudetto non c'è stato quel grosso che forse ci sarebbe per Simone Inzaghi o magari no Paolo secondo te la valutazione su Inzaghi si uccisse può cambiare lo secondo assolutamente no perché la priorità come ha detto Zang era la seconda stella poi è ovvio che economicamente se più vai avanti o è però non è che viene fatta solo questa valutazione e poi secondo me conta anche vedere come esci paradossalmente se esci giocandotela oppure se esci proprio male però io ho molta fiducia in questa squadra perché ha una costanza di rendimento una qualità di gioco un'intercambiabilità pazzesca quindi comunque in ogni caso per me il giudizio sarebbe molto molto positivo chiarissimo Paolo Giacomo Giacomo secondo te quel però quanto sarebbe grande qualora uscire poi facciamo tocchiamo ferro ovviamente perché squadre italiane le tifiamo quando è che non esci e passa io sono positivo esatto appunto uno due ma se dovesse mai succedere è peccato perché comunque per soldi cosa che non è una cosa da poco e perdi la possibilità di passare il turno e di andare avanti questo sicuro però io dico sai nel calcio poi questo è riferito poi alla fine dell'anno un resoconto finale tu dici e beh è chiaro che se poi l'Inter vince lo scudetto però alla fine io quando tutti dicono perché giustamente l'Inter ha detto che noi puntiamo la seconda stella e questo è vero l'hanno detto tutti da sempre però io ho un mio pensiero che comunque più riesci ad andare avanti e più riesci a guadagnare perché noi sappiamo che ogni passaggio del turno ed è importante questo è ovvio ma il giudizio è indipendente dai soldi che guadagni questo è ovvio cioè tutti vogliono guadagnare specie i clavi italiani in difficoltà però il giudizio non è che la aspetta con il co cambia il giudizio il giudizio di un allenatore no no cambia cambia cioè per la società di dirigenti cambierebbe come no quindi tu mi stai dicendo che se lui vince lo scudetto no no non parlo di Inzaghi ed esce agli ottavi l'anno prossimo lo mandi via io ti dico che più di una squadra specialmente in questo momento com'è la situazione economica un po' in tutte le squadre chi più chi meno è fondamentale sì quello che ti fa rientrare è fondamentale ma la domanda era il giudizio sull'allenatore ma io l'ho appena detto se esce agli ottavi e vince lo scudetto rimane eh appunto è quello che è chiaro e quindi è positivo il giudizio è certo eh no ma anch'io cioè io quello dicevo io un sogno ce l'avrei ma non lo dico dai dillo Conti dai 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 siamo nel momento anche nella fase prena lo dico a maggio dai dai qual è il sogno? comunque io invece voglio dargli una notizia a Marcello Chirico ah vai noi passiamo noi io e mio fratello passiamo il turno di questa questa partita di questa partita di Marcello sei contento Marcello? ma perché ma perché ogni volta che c'è l'Inter di Nelzo tu dici noi perché tu adesso te lo dico perché sei interista no io ti ho detto noi perché era riferito a te caro Marcello che tu ogni volta dicendo sai che lui è del fratello tu fratello è domani che vedo la montagna no no entrare nel suo palco allo stadio perché tanto tu non sei degranta sei interista no io adesso ti ho buttato l'amo caro Marcello caro Marcello ti ho buttato l'amo vedi che tu ci sei cascato perché tu sempre hai sostenuto che io fossi dell'Inter perché lui ti dico sempre ancora adesso no ancora adesso io sono simpatico però mi sa sto giro non è torto Marcello guarda che non vengo a sentirti cantare c'è stato un gemellaggio fino adesso beh noi passiamo martedì il turno hai capito detto che caro Marcello auguri auguri grazie dimmi Gianbru cosa mi dici ho detto che occhio a parlare dell'Inter male perché ci sta seguendo anche il buon Borrelli quindi saluti quello è immancabile sappiamo che lui non esce non esce io ti dico che già il fatto di vincere non esce il fatto di vincere la seconda stella ti dà un plus di almeno due punti in più non è uno scudetto normale soprattutto se lo vinci contro l'altra squadra di Milano che ha 19 scudetti quindi quella è una roba che ti fa schizzare in alto sì però è un discorso diverso l'Inter lo poteva raggiungere già due anni fa e il Milan era arrivato a 19 però sono d'accordo con Marcello quando dice una squadra che l'anno scorso è andata in finale non può uscire gli ottavi ma perché non può uscire gli ottavi perché hai guadagnato credibilità anche in Europa l'anno scorso hai guadagnato credibilità anche in Europa però il problema qual è che noi non possiamo noi sappiamo se il Manchester allora deve vincere per forza il Manchester City cioè quest'anno deve vincere se no ha fallito ha fallito è arrivata in finale in maniera inaspettata io ti dico che anche arrivare a giocarsela anche arrivare tra le prime quattro per me sarebbe uno straordinario risultato perché in Europa tu mi insegni che non sempre la qualità va avanti è anche una questione di lato C è un buon sorteggio ci sono tante componenti secondo me se arrivi in semifinale ti hai fatto qualcosa di storico l'Inter su questo su questo sono d'accordo quello che stai dicendo è chiaro che se essi e gli ottavi entri nei quarti entri nei primi quattro come dici tu cambia la sorta cambia un po' ma io continuo arrivo a dire però il concetto dei soldi no no che non fanno non disdegna Zang che qua stai parlando giustamente se arrivi nei quattro se scolta Giacomo gli ha sistemato i conti più la finale di Champions che avrebbe vinto un eventuale scudetto voglio dire ecco perché Simone Inzaghi è portato il palmo di mano l'anno scorso è stato l'anno però è quello che io volevo dire certo però ricordiamo perché ne avevo parlato chiudo subito ne avevo parlato fuori onda già la prossima Champions League sarà una manata di soldi incredibile perché cambia il format ci sono otto partite quattro in trasferta quattro in casa contro tutte avversarie diverse quindi non avrai più l'andata di torno al Girone già sono quasi 70 milioni di euro o poco più con gli incassi che a San Siro sono tanti già soltanto col Girone cambia tutto è una pioggia di soldi i premi europei sono veramente pazzeschi ricordiamo sempre che l'Inter l'anno scorso va in finale anche perché prima disputa la Coppa Italia in Europa e dopodiché fa finalmente la finale con una squadra forte che è il Manchester City l'anno scorso molto ha contato quel sorteggio io penso che se non ci fosse stato quel sorteggio abbastanza favorevole non so se l'Inter sarebbe arrivato in finale anche il sorteggio è inciso Porto Porto Benfica il Milan però ragazzi posso dirti una cosa noi parliamo del Porto il Girone stiamo parlando di una squadra che negli ultimi anni il Porto ha fatto fuori parecchie squadre l'Atletico Madrid è più forte sì però Marcello il Porto non voglio sbagliarmi ricordamelo ha fatto fuori la Juve se non sbaglio in Champions sì ok parlo della Juventus no no scusami stavo parlando della Juventus che era una Juventus di quelle forti allora detto questo Porto Benfica e Milan sono squadrette allora io devo vedere l'ho visto che dobbiamo stare sempre al valore delle squadre al momento in cui si incontrano il Porto e il Benfica incontrate l'anno scorso dall'Inter non era nel Porto e il Benfica che vinse la Champions League la colpa cosa c'entra ma lo abbiamo detto prima Benfica noi non ne parliamo proprio il Benfica si è trasformato il Milan aveva aspettato la prima parte allora si stava parlando prima Marcello tu incontri il Porto che magari quella partita ha fuori due giocatori che sono squalificati o per infortunio determinanti hai un vantaggio però detto questo comunque Porto Benfica e Milan secondo me non sono tre squadrette ma sicuramente abbiamo detto tutti che il sorteggio non è stato drammatico l'anno scorso però il girone era di ferro per esempio quando abbiamo visto il girone dell'Inter per esempio abbiamo fatto il risultato ma scusa un attimo se soltanto avesse incontrato ai quarti di finale perché agli ottavi non potevi ma ai quarti di finale di nuovo il Bayern che l'aveva abbattuto andate e ritorno nel girone come sarebbe finita? Marcello ma che ragionamento è? ma come si fa a fare un'analisi? cioè vorrei sminuire no ma non puoi chiaramente ma se 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 vorrei sminuire ma no ma vorrei sminuire perdonami la domanda che hai fatto la domanda che hai fatto non possiamo rispondere come facciamo ma c'è la controprova scusami ma come che ragionamento è? non è ragionamento come facciamo a rispondere il Bayern aveva incontrato l'Inter nel girone sì l'ha incontrato due volte ha vinto sia a Monaco di Baviera ma cosa c'entra? se per caso finiva dalla parte di là del tabellone probabilmente l'Inter usciva di nuovo ma quindi ma chi l'ha detto che poteva l'altra volta? ma quando tu analizzi una stagione stai fatti alle partite che ha fatto non hai seno una stagione scusa quest'anno stiamo parlando la stagione in Europa sto dicendo la stagione in Champions oh ma mi fai finire una volta una volta tanto in ragionamento che poi non lo capisci vedi che poi non lo capisci ma non è che non lo capisci si è capito bene perché stiamo analizzando la stagione di Champions dello scorso anno che l'Inter è arrivata in finale e invece di sentir dire che ha fatto una roba straordinaria io faccio il ragionamento che cavolo mi pare a me ok? io non sto a biettare a dire a te ma siccome noi dobbiamo dare un parere senza senso ho capito io dai parere ma non dici agli altri il tuo ragionamento è senza senso perché io a te quando fai il ragionamento non dico che mi fai senza senso magari non sono d'accordo ma non dico che mi fai senza senso ma non è senza senso sulla domanda perché tu mi ha un senso compiuto ma se tu mi fai finire magari capisci ma siccome non mi fai finire non capisci allora quest'anno stiamo ragionando su una squadra che è molto più forte dell'anno scorso che sta per andare a vincere la seconda stella quindi lo scudetto cosa che invece l'anno scorso l'Inter non faceva l'anno scorso ti faccio presente caro Paolino che l'Inter è arrivata quarta poi terza per la retrocessione della Juve al settimo posto ma quarta in campionato non funzionava bene come quest'anno quindi sicuramente quella squadra secondo me se avesse rincontrato il Bayern molto probabilmente riperdeva questa squadra di quest'anno io la do la do molto la do più forte molto probabilmente può passare Marcello lui dice più solida sì scusa posso risponderti anche in campionato più garanzia secondo me io sono d'accordo su quello che ho detto prima e ha detto Paolo io non so cosa poteva succedere se avesse incontrato di nuovo il Bayern uno due io mi ricordo che quando è andato via Onana quando è andato via Lukaku quando non c'era più Brozovic hanno detto tutti quest'anno all'inizio quando è arrivato Turam eh ma sai Turam rispetto a Lukaku dicevano tutti che quest'anno era più scarsa all'inizio poi invece ha cominciato a funzionare come dici tu Marcello alla stragrande e sta funzionando la stragrande però all'inizio io non sentivo dire queste cose che quest'anno è più forte rispetto all'anno scorso sentivo dire il contrario la carta c'era in deboli ma sai perché c'era quello scetticismo lì sai perché Giacomo c'era quello scetticismo lì proprio perché si arrivava da un anno che l'Inter non aveva fatto bene nonostante avesse avuto una squadra forte perché l'anno scorso comunque Simone Inzaghi aveva una squadra molto forte no hai ragione però sulla carta Marcello sai che noi poi noi che commentiamo andiamo a vedere va via Lukaku Lukaku arrivato Turam sai ma perché noi pensavamo poi hai perso Brozovic che comunque Brozovic negli ultimi anni nel suo ruolo era bravo hai perso Nanna che tornando al discorso della Champions ti ha fatto passare il turno col Porto perché alla fine ha fatto quella parata incredibile sì che sta facendo all'inizio tutti dicevano quest'anno che l'Inter era si è indebolita rispetto all'anno scorso poi col passare delle partite ha cominciato a dire no però però scusate mi ha fatto così destare un attimo di di interesse il commento di Chirico sulla stagione dell'anno scorso quindi secondo te è una stagione dove l'Inter non ha brillato nonostante una supercorpione quindi non era un ragionamento campato per l'anno ma non ha brillato quindi mi ribadisci che il fatto di non aver vinto lo scudetto ma soltanto una Coppa Italia una supercoppa una finale di Champions non ha salvato il tuo giudizio sulla stagione dell'Inter quindi il campionato noi ragioniamo ancora molto basandoci sulla vittoria del nostro campionato questo possiamo dirlo perché il campionato misura le forze tu misuri una squadra su 38 partiti quindi devi la reale forza quest'anno l'Inter sta dimostrando di essere fortissima perché le vince quasi tutte no 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 indubbiamente certo l'anno scorso non andava così non andava così l'anno scorso è vero che è arrivata quarta l'anno scorso tanto è vero che anche i dirigenti non erano contentissimi di Simone Zaghi l'anno scorso secondo me Marcello è vero l'anno scorso appare che quest'anno va via e sta asfaltando chiunque in questo momento poi quello che succederà non lo so parlo del campionato l'anno scorso c'erano altre squadre una su tutte il Napoli che comunque ha fatto un campionato stratosferico ha girato come gira adesso lì vabbè però come diciamo sempre ad Allegri ebbè ma quando sei lì potevi contendertela Simone Zaghi aveva la squadra per contenderselo col Napoli ma anche perché non è arrivato secondo ma soprattutto non è arrivato secondo tanti errori e ha perso quel campionato ma poi l'ha perso male ha perso quando ha fatto sette partite sette punti Marcello